dire grazie a loro che hanno dedicato tanto tempo e soprattutto la vita per portare pace e libertà a tutti noi. Prima di fare questo mio breve discorso, che dopo lascio fare la parte della cerimonia, voglio fare un gesto simbolico. Oggi sono qui come rappresentante del governo italiano, però non è giusto che oggi io sono rappresentante italiano. Oggi la fascia da sindaco, e la voglio fare in maniera importante, la voglio lasciare a Gigino perché lui è rappresentante della nostra Italia e della nostra nazione. Perciò per questa giornata il rappresentante dell'Italia è Gigino Negri, che vogliamo ringraziare per quello che ha fatto per noi. Ragazzi, la parola pace, la parola pace che deve essere nel nostro vocabolario, nella nostra comunità. Dobbiamo capire che tanta gente ha perso la vita, tanta gente ha dedicato davvero la vita ai campi di concentramento, ai campi di sterminio, e tanta gente ha dedicato la sua vita con un tandem per salvare la vita di altri. Oggi portare il salvataggio di una vita di una persona è una cosa importantissima, che per noi magari, visto che siamo qui, non l'abbiamo mai provato, non sentiamo quell'emozione.